Allora, quest'anno per la prima volta partecipo insieme alla famiglia di CNA all'Orboteri Multicolor. È una nostra iniziativa insieme alla CNA ed io rappresento la mia accademia, la scuola di estetica SICI, che ha il suo attivo sempre partecipato nelle manifestazioni di CNA e sta in un'iscritta della CNA e mi occupo principalmente dell'area benessere, tutto ciò che riguarda il benessere in generale, per quanto riguarda il corpo, per quanto riguarda le make-up artist, le onico-tecniche, nonché rappresento anche a livello italiano, sono un giudice internazionale, quindi faccio gare e mi promuovo sempre di più sul benessere e sulla quotidianità della persona, di quanto possiamo essere noi di supporto per un benessere sia fisico che interiore. Si parla tanto oggi di benessere, ma non solo, per me il benessere è anche una condizione di buona salute, quindi guardare una formatrice del benessere è come guardare a un benessere fisico per stare bene sia con se stesse ed anche con gli altri.